La Regione ha approvato il nuovo piano dei rifiuti che avrà una durata di sei anni. Secondo quanto stabilito dal provvedimento, ogni territorio deve essere autosufficiente e non può scaricare su quelli vicini la spazzatura che non riesce a smaltire. In sintesi, Roma, che continua a portare più di un milione di tonnellate di immondizie all'anno oltre i propri confini, ora deve dotarsi di impianti propri che liberino le altre aree dal peso degli scarti della capitale, a partire dalle province limitrofe. Sulla questione è intervenuta la consigliera regionale Michela Califano, che parla di una svolta storica. Sulla stessa linea il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che dichiara «Le linee guida del progetto sono ottime, Roma trovi sul territorio il posto per i propri rifiuti». Contraria la sindaca Virginia Raggi, che teme una nuova malagrotta. «Quel PD che nel 2013 festeggiava la chiusura della discarica, oggi chiede la riapertura di un altro impianto. È gravissimo», ha affermato. Gli fa eco il capogruppo di Forza Italia alla Pisana, Antonello Aurigemma, che sostiene «L'ex sindaco Marino e il governatore Zingaretti sono responsabili della chiusura di Malagrotta, decisa senza aver trovato una valida alternativa». Grazie a tutti.